Un momento per noi molto importante perché i 400 comuni italiani che in questi anni hanno fatto il percorso per ottenere i titoli di Access Europe hanno anche in questo momento al fianco l'istruttore di credito sportivo. Nella preparazione dei dossier un punto molto importante è quello dell'impiantistica sportiva e i comuni attraverso l'aiuto dell'istruttore di credito sportivo potranno migliorare la loro impiantistica sportiva e non solo sportiva, anche culturale perché l'istruttore di credito sportivo oltre a finanziare la parte sportiva dei comuni e dell'associazionismo finanzia anche quella che è tutta la parte culturale del comune. Per cui siamo molto contenti di essere qui oggi a firmare questa convenzione.